il sabidone è qui in action dubai fuori 40 gradi sono qua con gli amici mi stanno regolando le sci il posto che conosco bene le montagne a 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